E' Ellie Schlein, la nuova segretaria del PD. Nata vicino a Lugano nel 1985, è la prima segretaria donna del Partito Democratico. Schlein se l'è giocata con Stefano Bonaccini, vincendo con il 53,8% contro il 46,2% del presidente della regione Emilia Romagna. Anche nella città di Fano, la Schlein vince con il 53,75%, pari a 673 voti, su Stefano Bonaccini, che si ferma al 46,25%, con 579 voti. Solo due settimane fa, nei congressi di Circolo PD, Bonaccini aveva raccolto il 67,4% e Schlein il 27,7%. In totale sono stati 24.000 i marchigiani che sono andati a votare, tra questi 2.645 nella provincia di Pesaro e Urbino. Il popolo del centro-sinistra, per quanto riguarda i risultati, ci ha detto che ha idee diverse rispetto agli iscritti del Partito Democratico. Le regole erano queste, quindi accettiamo il risultato, siamo felicissimi dell'ampia partecipazione. A Fano hanno partecipato 1.260 persone, a livello nazionale un milione di persone. Questo ci conferma che nel centro-sinistra noi siamo importanti, siamo visti come fulcro anche da chi non è iscritto nel nostro partito. La riflessione che faccio è che spero che tante persone che non sono iscritte al nostro partito, spero qualcuno si iscriva, venga a dare una mano, venga a fare volontariato come abbiamo fatto sempre noi, come facciamo sempre noi, perché sarebbe l'ennesimo riconoscimento della nostra importanza. E visto che adesso queste persone che non sono iscritte al nostro partito sono rappresentate, hanno vinto questa elezione interna, mi auspico che partecipino alla vita del nostro partito e ci diano una mano, perché noi abbiamo bisogno di forza, di forza popolare, di tante persone. Un risultato importante che differisce da quello provinciale, lo dobbiamo ricordare, perché nella nostra provincia si attesa invece la vittoria di Bonaccini, quindi il risultato di Fano diventa un risultato particolarmente significativo. Un partito consapevole dei diritti sociali e dei diritti civili, un partito che si rende conto che c'è bisogno di guardare in un modo nuovo alle disuguaglianze e trovare risposte più contemporanee e moderne ai problemi delle persone, alle questioni lavorative, ma anche a tutta la questione climatica. Ecco, Elislein porta questo tipo di questioni al centro del nostro partito democratico. I risultati definitivi mostrano un quadro in cui chiara la vittoria di Elislein, ma il risultato di Bonaccini è un risultato molto importante, che va sommato anche al risultato delle consultazioni interne del partito, per cui la presenza e il peso di Bonaccini mi aspico che siano comunque importanti e in dialogo con la nuova guida del partito democratico. Io quindi vedo un partito con una donna alla guida, ma un uomo forte al suo fianco. Il risultato che Fano raggiunge Elislein è un risultato quindi grande, che è frutto degli attivisti del PD, ma anche e soprattutto delle tante e dei tanti non iscritti al PD, che come me hanno fatto la scelta di impegnarsi in questi mesi per sostenere la candidatura di Elislein e di provare a costruire una pagina nuova nella storia della sinistra, ma anche di questo Paese. Un risultato grande di generosità e di impegno che ci dice tante cose, soprattutto che la partecipazione è necessaria e che le primarie, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, sono uno strumento fondamentale di partecipazione. Non è più pensabile né accettabile immaginare che le alleanze o le leadership vengano costruite da poche persone nelle segrete stanze. Elislein insegna che serve partecipazione, impegno, passione e il coinvolgimento dei cittadini. A livello regionale invece è la 32enne Chantal Bonprezzi, avvocato e consigliere comunale di opposizione a Senigallia, la nuova segretaria del PD delle Marche, che ha incassato 12.706 voti, seguita dalla sua sfidante, Michela Bellomaria, con 11.167 preferenze. Tra gli eletti del PD di Fano spicca il nome di Erika Maggi all'Assemblea nazionale, mentre quella regionale Marche è Enrico Fumante, Francesca Ricci e Dimitri Tinti. Siamo in compagnia di Erika Maggi. Erika, innanzitutto le domando se se lo aspettava. Non ce lo aspettavamo, però in quello nostro era tanta la speranza, perché Elislein è riuscita ad intercettare tanti e tante giovani che ormai non si sentivano più rappresentate dal PD e è riuscita attraverso la sua capacità comunicativa a raggiungere tanti ragazzi e tante ragazze che avevano perso o forse non avevano mai avuto la speranza nella politica. E al tempo stesso è riuscita a riagganciare il rapporto con tanti e tante delusi dalla politica, in generale dalla sinistra. Quindi nonostante Bonaccini fosse il favorito, diciamo che in cuor nostro ci speravamo con tutto il cuore. E come commenta i risultati di queste votazioni? Siamo felici, soddisfatti perché il percorso è un percorso che nasce dal basso, quindi grazie alla partecipazione di tutti e tutte noi è stato un percorso, un viaggio fatto di tanta condivisione, di esperienze e ci portiamo quindi un grande bagaglio. Siamo sicuri che questo non è la fine ma l'inizio di un nuovo percorso. Quindi oggi abbiamo iniziato a scrivere la nuova storia del Partito Democratico e in termini più ampi della sinistra italiana.